e allora sfatiamolo questo mito così proviamo a iniziare a capire bene qual è la fisica delle ottiche che montiamo sulle nostre macchine il sensore crop rispetto al full frame a parità di distanza e a parità di lunghezza focale ha una profondità di campo più piccola del full frame ciao a tutti oggi voglio tornare su un tema che è sempre caldo lo vedo dai commenti cioè la comparazione tra il sensore crop e il sensore full frame nelle mirrorless soprattutto per quanto riguarda l'ambito video l'abbiamo già trattato in qualche video dal punto di vista più tecnico come si comportano le focali eccetera però io adesso vorrei tornare su un elemento su due elementi che sono essenziali perché penso possa esservi d'aiuto soprattutto a quelli che sono a cavallo nella scelta tra un formato e l'altro pensano magari di voler fare un upgrade al full frame o un downgrade al full frame allora spero che questo contributo possa risultarvi utile in senso assoluto prima di tutto non c'è una differenza sostanziale cioè non si può dire che uno è meglio dell'altro non c'è una serie a e una serie b dei sensori semplicemente perché data la dimensione del sensore ci sono poi tanti altri fattori che determinano la qualità del file le mirrorless con un sensore crop non sono necessariamente macchine da allenamento per poi passare al full frame quando ce lo si può permettere per una ragione fondamentale abbiamo detto che oltre al sensore è necessario comprendere la tecnologia costruttiva del sensore tutto il sistema che va a elaborare la qualità del file che viene erogato quindi la qualità del colore la capacità di catturare sensibilità di immagine di luminosità di colore appunto la profondità di colore che naturalmente non dipendono non sono discriminati dal fatto di essere una full frame e l'altra crop ma la cosa più importante è che il riferimento classico che si fa al full frame è proprio della fotografia non del video per quanto siamo abituati dal punto di vista culturale di ciò che abbiamo visto negli ultimi decenni e oltre il cinema è sempre stato fatto su macchine con sensore crop quindi molto più vicino a quel fattore di moltiplicazione 1,5 rispetto al full frame cioè un sensore più piccolo va a catturare a parità di lunghezza focale immaginate questa è una lunghezza focale 24 se noi la mettiamo su un sensore croppato cioè più piccolino andrà a catturare un angolo di visione più piccolo rispetto allo stesso risultato su full frame mantenendo la stessa distanza dal soggetto ora questa è una cosa che più o meno sapete ci sono dei video che ho realizzato io e tanti altri colleghi sul tema quindi dovreste esservi riusciti a orientare l'effetto che fa una macchina una lente come il 24 per esempio su un sensore crop della panasonic che ha un fattore di 2 per di differenza rispetto al full frame e che sulla macchina appunto con sensore croppato avremo la stessa lo vedremo lo stesso angolo di campo di una lente da 48 50 sul sensore full frame però quello che è importante dire oltre a discriminare a discriminare sul fatto che non esistono differenze in termini qualitativi c'è stato c'è spesso questo torna spesso questo tema e cioè che si cerca di andare su full frame perché su full frame c'è questo effetto bouquet diverso lo sfocato dietro è più netto è più visibile la distanza cioè lo sfocato rispetto al soggetto in primo piano è più marcato nelle macchine full frame naturalmente in senso assoluto questa cosa è vera cioè ciò che noi vediamo come risultato è questo però è la macchina con sensore crop che ha una profondità di campo più piccola cioè se noi andiamo a mettere una lente da 24 su una macchina crop o una lente da 24 su una macchina full frame e stiamo alla stessa distanza la profondità di campo è più piccola sul sensore crop rispetto al full frame contrariamente a quello che comunemente viene concepito peccato che questa cosa che potete andare a verificare qui nelle tabelle di off master piuttosto che photo pills però lo potete andare a verificare direttamente dal punto di vista prettamente matematico la profondità di campo è in realtà più piccola nel sensore crop che nel sensore full frame solo che succede una cosa che nel momento in cui noi scegliamo la lente lo facciamo soprattutto in base all'angolo di visuale che vogliamo quindi è vero che sarebbe più piccola la profondità di campo su crop ma col crop nel momento in cui vogliamo utilizzare la stessa la stessa focale dobbiamo andarci a spostare per avere la stesso angolo e a quel punto dato che la distanza è un altro dei fattori discriminanti per determinare la profondità di campo ecco che questo vantaggio che in realtà è su crop non lo vediamo più perché essendoci dovuti allontanare per ottenere lo stesso angolo a quel punto è il full frame che ha un vantaggio dal punto di vista del ridurre la profondità di campo naturalmente questa rincorsa alla profondità di campo ha avuto un suo decorso la piccola profondità di campo l'effetto dello sfoccato dietro è stato ultra enfatizzato negli ultimi dieci anni soprattutto perché molti si sono avvicinati al video entrando nel mondo della fotografia cioè delle macchine mirrorless fatte per la fotografia che hanno invaso il mondo del video e di conseguenza poter lavorare con queste lenti con queste grandissime performance a diaframma completamente aperto naturalmente ha creato questo gusto del bouquet dello sfoccato eccetera eccetera però non è questo il punto nel cinema nei contesti nei quali l'immagine deve essere molto raffinata molto pulita molto studiata raramente si utilizzano grandi aperture f1.4 f1.2 f1.8 che invece sono più caratteristiche della fotografia se andate a vedere 100 film realizzati è molto più facile che l'apertura del diaframma sia stata impostata da 2.8 in su perché c'è un range oltre il quale noi abbiamo bisogno di avere una distinzione tra ciò che c'è nel primo piano e lo sfondo che non deve essere così esasperata ci deve essere una giusta relazione tra ciò che è la texture diciamo della figura a fuoco e ciò che è fuori fuoco andate a fare qualche ricerca e scoprirete appunto che normalmente quando si gira a 2.8 c'è già tanta apertura naturalmente le esigenze dipendono anche da quanta luce vogliamo e anche da componenti di tipo più estetico queste differenze molto spesso sono un qualcosa di effimero che noi andiamo ad inseguire ma non sono così rilevanti soprattutto perché all'inizio io ci tengo sempre a dire non fatevi insomma non fatevi trascinare da queste da queste sirene diciamo del mercato che magari vi impone la di fare delle scelte che sono un po' superiori a quelle che possono essere le vostre esigenze sia dal punto di vista finanziario sia dalle reali necessità di cui avete bisogno una macchina crop è una macchina che può dare risultati straordinari ancora oggi abbiamo in campo delle macchine come la gh5 la nuova gh6 o altre macchine crop di altri brand che hanno comunque la capacità di darci risultati straordinari nel momento in cui sappiamo maneggiarle in cui sappiamo fare i video sappiamo che ciò che c'è davanti alla camera e ciò che andiamo a raccontare è davvero più importante non c'è da inseguire pensare di andare in serie a nel momento in cui si compra una macchina full frame per fare video perché non è così la differenza di crop avete capito che ha un altro elemento in gioco altri elementi in gioco e che non rendono assoluta assolutamente vincente dal punto di vista della profondità di campo solo il fatto di essere una macchina full frame ci sono altri fattori in gioco ci sono altri altri punti a cui dobbiamo mirare per realizzare ottimi video e spero che i vostri prossimi video siano un po pochino più belli magari anche soltanto perché avete ascoltato uno di questi suggerimenti a presto e grazie di tutto